cari amici dei questo è un test della nuova capsule nuovo microfono sony e cm l1 il lavalier che ho qui al bavero attenzione non quest'altro che è un radiomicrofono dji perché perché in questo momento state sentendo la voce che arriva dal radiomicrofono dji ma con il body pack collegato direttamente alla capsula sony e qui nella mia tasca l'altro body pack l'altro microfono l'ho tenuto qui al bavero proprio per fare un confronto quindi per sentire con lo stesso radiomicrofono questo è il suono che viene catturato dalla capsula sony e cm l1 e questa invece la mia stessa voce che viene catturata dal microfono dji direttamente dalla capsula nel body pack dji ripetiamo ancora una volta questa è la voce catturata dalla capsula del nuovo microfono sony e cm l1 e questa invece è la mia voce catturata invece dalla capsula integrata nel microfono dji ammesso che abbia senso questa invece è la voce che viene catturata con la capsula collegata direttamente alla camera il filo non è molto lungo non ha in realtà molto senso è un utilizzo veramente limitato alle vlogger che vogliono raccontare direttamente la loro ripresa e quindi sono di fatto dietro la macchina e in questo caso io sono davanti sono anche un po vincolato più di così non mi posso allontanare e questa è la voce che viene catturata in un esterno ci sono i rumori della strada e comunque una delle sue caratteristiche è proprio quella di catturare soltanto o prevalentemente la voce